eccoci bentornati nel reddit dei modificati dopo il ban siamo tornati nel reddit dei modificati dopo il ban noi siamo tornati nel reddit modificati eccoci qua eccoci qua dopo il reddit si è tornati grazie vatti e si gode quattro giorni un'ora e 41 minuti non sono andato in spista sono andato per motivi lavorativi che poi tra qualche mese probabilmente vedrete a riccione grazie a Deus anche per farmi un motivo lavorativo sul mare to lo dico c'era la piscina c'era la piscina ma potrò prendermi un weekend di vacanza ragazzi tanto non sapevo niente questa volta ho avuto paura tanta ma non è oggi e due anni eccoci con Trump rimangono ancora laggiù ah c'è anche sdrumo ho detto che colma dopo l'ennesimo ban e questa è questa c'è sempre ma c'è sempre questa è un classico è la classica calza natalizia ogni anno non manca però la cosa la cosa è questa rispetto agli altri ban questo è durato di meno ma io non lo sapevo per cui non ho potuto organizzare niente quindi per cui questo è il ritorno del ban questa è la streaming speciale per il ritorno del ban vabbè hai saltato due giorni alla fine non è che prima dichiarazione di Omi che ha appena sbannato ma consapevole del fatto che il prossimo sbaglio potrebbe essere l'ultimo adesso ho paura concedetemi un po' di paura conferma forza Lazio forza Lazio andiamo a Pontevilla per ti fare la Lazio Miroslav Closet non fa ridere non fa ridere perché non sei di Roma mi sembra un po' esagerato ragazzi come se fosse lui personalmente a bannare ok Grazie ciao, grazie Andre Grazie a tutti 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 Grazie mille Salve Rico Oh come va? Tutto a posto Vai e viene a sfruttare Ciao ragazzi Eeeh Cazzo sono io qua Sono sempre qui da solo A guardare o divertirsi da questo schermo Grazie a tutti 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 No Sono stanco Grazie a tutti 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 potete fare dei crowdfunding non so qualcosa così almeno che insomma qualcosa dove possiamo aiutarvi visto che siete già vip o no, ho sbaglio ah 222 220 220 milioni di volte è stato sfamato, credo siano stati messi dei box grazie ragazzi, grazie grazie mattone grazie quando il vostro giugno è torna a città non l'ho capita molto che il tuo arrivo implica la mia morte ah non credo Hank, hai mai disband disband grazie marconi oh Dio va bene va bene bentornato giù la luna mi sei mancato questa parte della vita mia vita questa parte della mia vita questa parte della mia vita questa piccola parte si chiama felicità grazie schizzi per il bel post ecco il colpevole di tutto ciò no, non credo non credo che che Cioci Parone sia stato colpevole di tutto ciò grazie gang 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 non lo so non lo seguo più quando mi viene stannato grazie a questi ragazzi che hanno fatto questa festa è il mio onore cioè no, no non si può fare feste allora li saluto li saluto non fate feste ma grazie grazie mille grazie cioè non so cosa dire scusatemi grazie Davy ma non merce grazie anche a Denk per aver aiutato no, ragazzi questa è la cosa ma cos'è ma qua c'è la tua immagine puoi denunziare denuncio vai oh, finalmente denuncio attivazione tutti i presupposti per la denuncia avvocato attivazione attivazione chiamare avvocato grazie supereroe Alexa metti promemoria per domani alle dieci e mezza chiamare avvocato Alexa no ok, ma adesso liberate a testa box piquata sono le dieci e trenta del mattino porco dio Alexa cancella subito sono tre aaaah grazie grazie fammi roma ma poi l'ha detto di no sono di mattina o di pomeriggio ma ragazzi ma non è colpa mia se la mattina mi sveglio così non è letteralmente colpa mia se ho gli occhiai perché sono con voi la notte giocare a GTA il giorno dopo dovrò dormire se dormo quattro ore è ovvio che ho gli occhi goffi sentite io sono come sgarbi quando non ho niente da fare lavoro sono preso un grande weekend di pausa comunque mentre ero ben nato ho fatto un errore Amazon Kaia in viaggio superenideale come a casa questo è per chi c'era inizio live già me mini freschi di stasera la rivoluzione digitale hanno spostato totalmente i termini della questione c'è a piccolo timing mi ne dipende grazie Paolo Berlino la globalizzazione e la rivoluzione digitale hanno spostato totalmente i termini della questione c'è la globalizzazione e la rivoluzione digitale hanno spostato totalmente i termini della questione c'è in un modo parallelo ci staremmo lamentando tutti del lunedì reaction lunedì nel cielo come ci piaceva chiamare ma in verità è lunedì fuori il piove e tu non ci sei eccomi qua è martedì o mercredì non so che giorno della settimana sia non piove fuori voi avete ancora da 13 anni e l'unico problema è denunziare il vostro zio che vi ha toccato lì hai scelto Alexa accendi pioggia posso suggerire freddo uno beh il dialogo è circa questo comunque non è non è diverso dalla realtà addiomi come tutte ah questo è ok qua era ancora bannato addiomi come tutte le cose belle anche questa è arrivata alla sua fine ci mancherai e invece dopo quattro giorni è risorto se è consapevole che la prossima maratona di mentana quando andrà in bagno ci sarà uno spam di sugar prima della puntata ti eri fatto un vaccino della stazione? no l'ho fatta molto prima perché è la cosa più bella che vedrai oggi ok ok Grazie a tutti Non sono io Eccoci qua Bravo, bravo Raison Bravo Raison E che devo fare? Che devo dire? Che devo fare? Quando vuoi fare una live sulla massoneria Ma i poteri forti non sono d'accordo E che palle Eh vedi? Era l'unica cosa a cui non avevo pensato Twitch, ho trovato il bikini Oh mia Ci ha lasciato Ci ha lasciati Mamma mia Bello devo dire Abbastanza forte Supertwee Con ospiti di lusso Ecco Pov Se io ho messo dopo l'edesimo van Vabbè Ci ha lasciati la grammatica Era un permavan Era un permavan? Mi vuoi dichiarati quando mi... Eh vabbè Grazie a tutti Ma anche io Quando ricevo il messaggio Su Whatsapp Mi han bannato Tac Cosa? Oh ormai C'ho Così ogni tanto Mi arriva questo tuo messaggio Ah ok 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 mio mio Sì sì Ed è sempre la solita tarantella Chiama Cerca di capire per quanto Perché E via Sì un po' di cose da fare Non penso Abbiamo bisogno di una descrizione Molto carini Grazie Ho anche le occhiaie Non fumo Ma va bene Grazie Grazie mille Sto streamando Sto su Twitch Baby Faccio live Viniere L No Su Warzone Baby Io mica gioco Io si streamo a piedi Alto tra le tendenze Mo mio Starezi Punto Prime Dieci Sub PayPal Troppo Grazie Non penso ad altro Un Sub Due Sub Fammi tre Quattro Quattro Sol Grazie Mille Luzzo Un sacco di anni fa Ma eh sì Lo so Ci conosciamo da Non so quanti anni Zano Ma anche con Blur Mi conosco Prima di trasferirmi a Milano Per cui 7 8 7 8 Anni Che di più Ma che di più Non mi ricordo Non mi ricordo Perché Hai il Django Allo zoo di Londra Ma non basta Poverini No no È andata abbastanza così Ma è È al di sotto Delle Delle tue Aspettative Cioè Per colpa Dello zoo Non per colpa Di Django Sì Vabbè Direi che No Questo è esagerato Non è Non è Fattibile Direi che Abbiamo finito Il Reddit Grazie Dalline